Ciao ragazzi, sono Randellone, oggi siamo tornati su Call of Duty Black Ops 3 per aprire appunto un pacco da 60 cripto chiavi che è uscito da pochissimi giorni, volevo vedere appunto cosa c'era là dentro, sono molto curioso e comunque come potete vedere mi sono fatto un nuovo emblema, mi piace tanto, intanto ora scusate se uso questo mi fa schifo però dato che voglio prendere i vestiti oro degli specialisti mi tocca usarli, vabbè allora eccolo qua, tema specialista, corrompi, io non so che cosa sia sinceramente però per farvelo scoprire butterò queste 60 cripto chiavi, allora io voglio eh, cambio ok, dai, tema spectre, no, 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 fermi tutti, tema testa, spectre, no, cosa sarebbe, aspetta, tipo dei vestiti strani, ma no, ora 60 di queste cripto chiavi per, no, sapevo, non me lo pigliavo, cavolo, comunque adesso sapete che non conviene più di tanto dato che per un tema specialista non mi sembra molto molto buono, vabbè io direi che abbiamo fatto un bel trade perché ora 60 monete per un coso così mi sembra molto molto troppo e insomma molto poco alla fine quello che ci ho condannato, quindi meglio, meglio non farlo, vabbè io spero che questo video vi sia stato utile in tal caso commentate, iscrivetevi e noi ci si rivede come sempre, a un prossimo video se, ma guarda, ne ho trovato un altro di tema corpo, vedi, questo di 10 è stato uguale a quello di, 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 di 200, di, di 60 oh dio